Per Globus Television, Margherita Montalto, siamo allo Sheraton in occasione dell'edizione 2016 della GDG DevFest. Chiediamo a Fabio Arceri, manager e organizzatore, cos'è la DevFest? La DevFest è una stagione di eventi, supportato ufficialmente da Google, che è pensata per aggregare esperti da tutto il mondo per discutere di tecnologia informatica, soprattutto made in Google. Queste DevFest in realtà sono degli eventi organizzati da dei gruppi informali, sparsi un po' in tutto il mondo, che si chiamano GDG, che è un acronimo per Google Developer Group. I Google Developer Group sono un network internazionale, fondato da Google nel 2010, allo scopo di consentire a Google stessa di supportare le community di sviluppatori di tutto il mondo nell'impiego delle stesse tecnologie Google. Quali sono le attività del DevFest? Le attività che svolgeremo saranno di vario tipo, dalle semplici sessioni, quindi ci saranno diversi relatori che parleranno di varie tecnologie, vari argomenti legati all'informatica, legati alla scienza dell'informatica. Ad esempio parleremo di Big Data, un argomento che sta veramente andando molto forte negli ultimi anni. E di cosa si tratta? I Big Data non sono altro che, si parla di Big Data quando i sistemi informatici si trovano a dover gestire grandi volumi di dati. Oggi noi viviamo in un mondo in cui siamo letteralmente attraversati, investiti da grandi quantità di dati. Dati che sono importanti per ottimizzare la gestione di tutti i nostri processi giornalieri, banalmente dal processo domestico, dalle nostre attività domestiche fino ad arrivare alle grandi attività aziendali di piccole e medie imprese, ma anche e soprattutto grandi. Ecco, questi dati è importante collezionarli, è importante studiarli, automatizzarne lo studio proprio per la loro grande mole e scoprire delle informazioni che sono nascoste all'interno di questi dati per dedurre dei comportamenti, degli schemi magari che si ripetono e quindi poi agire di conseguenza per migliorare ad esempio quella che è la gestione, l'ottimizzazione di una organizzazione aziendale. Quindi questo. I big data ovviamente non sono utilizzati soltanto a livello meramente di organizzazione aziendale, che è l'esempio che è fatto adesso, ma anche in ambito scientifico e in tantissimi altri ambiti, anche socio-umanistico. Ce ne parlerà ad esempio oggi Bennato, il professor Davide Bennato, che ci racconterà un po' di questi legami che ci sono tra big data e scienze sociali. Benissimo. Invece abbiamo accanto Federica Greco, responsabile della Woman Techmaker. Cos'è Woman Techmaker? Buonasera a tutti. Woman Techmakers è un programma sponsorizzato e fondato da Google nel 2012 che si occupa principalmente dell'inclusione sociale delle donne nell'ambito della tecnologia. Quindi diciamo che è stato progettato proprio per portare la consapevolezza di questo gender gap all'interno dell'ambito della tecnologia. VTM nasce sostanzialmente perché ci si rende conto tramite dei numeri, quindi dei dati, che andando avanti nel tempo, ad esempio le donne laureate in ambito computer science vanno a diminuire. Quindi noi organizziamo dei eventi per sostenere questo progetto, il quale obiettivo è quello di cercare di spingere le donne ad apprendere le tecnologie Google e non solo e quello di creare un ambiente eterogeneo all'interno della nostra comunità. Danilo Mirabile, qual è la tua esperienza in questo settore così profondo, così misterioso, a proposito di donne che vengono escluse o che comunque vengono un po', se vogliamo, ancora una volta nel 2016, ghettizzate dal potere maschile? Qual è la tua esperienza? Io ho fondato una start-up diversi anni fa, nel 2014, più o meno nello stesso periodo, ho incontrato il GDG dove ho potuto trovare tantissimi professionisti, di cui tantissime donne. Infatti la nostra start-up è formata quasi per il 50% da donne, grandi professionisti anche loro, sia nell'ambito dello sviluppo, del design, che hanno competenze non indifferenti in ogni ambito, in ogni settore, quindi assolutamente d'accordo con lo sviluppo di questo tipo di progetti, dove la donna non va assolutamente esclusa da nessun tipo di formazione o di area, anzi riescono a svolgere dei compiti anche molto meglio di come riusciamo a fare noi. Nel GDG sono riuscito a trovare tantissimo, sia a livello personale, professionale, io sono solo uno dei tantissimi che frequentano tutti i giorni questo ambiente, ma sono riuscito a trovare anche un contatto diretto con Google, che per la nostra start-up ad alto contenuto tecnologico è stato di fondamentale importanza e soprattutto tante tecnologie nuove che ci hanno portato molto più lontano di quanto avremmo fatto sicuramente senza. Ma è vero che c'è qualcosa che oltrepassa Skype, Bintouch? Sì, sì assolutamente, è vero, è la start-up appunto di cui mi occupo, si chiama Bintouch, l'abbiamo fondata diversi anni fa, adesso dopo due anni e mezzo siamo pronti a lanciarla sul mercato internazionale ed è un'applicazione che sta sfidando i colossi della comunicazione, è nata qua in Sicilia, a Catania, proprio insieme ad associazioni, a gruppi di sviluppo proprio come il GDG e tanti altri che ruotano attorno all'ecosistema siciliano. Nel 22 novembre avremo il lancio internazionale con il quale vedremo cosa accadrà e se riusciremo effettivamente a cambiare un po' il destino dei sistemi di comunicazione di oggi. Allora per concludere volevo sapere una cosa, avete intenzione anche il prossimo anno di ripetere questa esperienza qui in Sicilia, a Catania? In realtà sì, non sarebbe una ripetizione di questa ma una ripetizione di un ciclo che si sta già ripetendo da diversi anni. Sono state fatte già 4-5 death feste in Sicilia e quindi quella dell'anno scorso qui a Catania è stata la prima catanese e questa è la seconda edizione catanese in realtà. Non so se l'anno prossimo riporteremo la death feste a Catania, magari sì, però non è importante che un evento del genere si collochi necessariamente a Catania. L'importante è collocarlo in un posto che riesca a dare valore al territorio che poi non è altro che l'attività e l'obiettivo di tutti i GDG. Quindi non ci sono dei protagonismi o delle competizioni tra i gruppi. Semplicemente si collabora insieme. Oggi siamo, non l'ho detto prima, siamo più di 600 GDG in tutto il mondo. Oggi siamo 6 GDG, la death feste è organizzata, questa death feste, questa edizione da ben 6 GDG di cui 4 siciliani, GDG Palermo, GDG Catania per l'appunto, GDG Nebrodi e GDG Gela, più la collaborazione di altri due GDG calabresi che sono GDG Cosenza e GDG Reggio Calabria. Quindi diciamo una bella famiglia che sta collaborando ed è per questo che si chiama GDG Death Fest Mediterraneo. Grazie.